Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere questi errori di Windows Update ovviamente la Microsoft quello che ci consiglia di fare è inserire su cmd questo comando una volta eseguito questo comando come puoi vedere questo è il comando te l'ho lasciato in descrizione tu lo esegui su cmd quindi prompt dei comandi come amministratore fai ctrl v e cominci a premere invio poi quando ci sarà così un'operazione completata tu puoi anche chiudere direttamente questa schedina chiudiamo un attimo tutto andiamo un attimo nella cartella di Windows quindi in questo caso cartella di Windows dove tieni il tuo sistema operativo quindi se c'è questo logo sul tuo disco qui hai il tuo sistema operativo vai su Windows scendi fino a giù fino a trovare la cartella software distribution una volta cancellati tutti questi file una volta cancellati tutti questi file andiamo un attimo su servizi scendi fino a giù fino a trovare il servizio Windows Update eccolo qua ci clicchi sopra ok automatico e facciamo avvia una volta fatto fai applica ok ok applica ok sali un po' più sopra fino a trovare il servizio di trasferimento intelligenza dei file quindi in questo caso se riesco a trovarlo andiamo servizi di trasferimento servizio trasferimento intelligente in background clicchiamo sopra mettiamo automatico e fai avvia una volta fatto tutto facciamo applica ok andiamo un attimo su impostazioni risoluzione problemi vai su altri strumenti di risoluzione dei problemi e fai su esegui su Windows Update per vedere se ha qualche problema ovviamente il nostro servizio ha trovato qualche problema in Windows Update quindi diciamo Windows Update che il problema è stato risolto facciamo sì ok chiudiamo andiamo su Windows Update e vediamo se c'è qualche problema ovviamente qui Windows Update non riscontra più problemi c'è anche il pallino che è tutto nella norma vediamo se c'è qualche aggiornamento da fare ovviamente non ci dice di fare nessun aggiornamento quindi in questo caso quello che ti consiglio di fare è quello di ritornare a fare di nuovo quel procedimento su CMD quindi in questo caso vai su prompt dei comandi fai esegui come amministratore e metti quel comando una volta fatta l'operazione riavvi il tuo sistema e vedi se è risolto con il problema di Windows Update se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere questo problema spero che sei riuscito a risolvere questo problema per problemi o altro commenta iscriviti se è stato utilissimo lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao